Benvenuto Antonio Bottillo, country head in ATXIS, investment manager, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un primo bilancio di come è iniziato questo 2019, parallelamente dato che il tema del salone di quest'anno è la sostenibilità, come interpretate voi il tema della sostenibilità? Sì, un 2019, grazie, innanzitutto un 2019 molto intenso, un ATXIS sempre più impegnata su questo fronte, il tema di oggi è il tema della sostenibilità, sostenibilità in che termini, in che modo vuol dire opportunità per gli investitori, sì o no, si parla tanto di inclusione, si parla di diversità, si parla di un mondo nuovo, sostenibile anche per le future generazioni. ATXIS è impegnata su questo fronte già da diversi anni, quando ancora non se ne parlava, abbiamo un marchio molto forte, Mirova, al nostro interno, che gestiva prodotti già orientati in quest'ambito alla fine degli anni 80, tanto per dare una rappresentazione a questa realtà, si sono aggiunte, considerando la nostra caratteristica in quanto espressione di pluralità di gestori, altre società che fanno parte della nostra piattaforma, alcuni elementi, alcuni indizi molto innovativi, l'utilizzo delle cosiddette machine learning anche in quest'ambito a favore, diciamo, ovviamente degli investitori. Il bilancio dell'anno è un bilancio positivo, i mercati hanno dimostrato di poter rimbalzare, alcune problematiche, alcune fragilità rimangono, permangono, ma non riteniamo che sia arrivato il momento per eliminare tutte le asset classi rischiose dal portafoglio, ovviamente alla concentrazione e sulla costruzione del portafoglio, sulla possibilità di diversificare, ma anche in quest'ambito, che sia una diversificazione sostenibile che abbia ragione di essere. Grazie.